Continua l'opera di valorizzazione e riqualificazione della Villa Comunale Regina Elena di Licata, avviata dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Angelo Cambiano. L'importante polmone verde della città sarà oggetto di interventi di riqualificazione, quali la collocazione di arredi e finiture dei servizi igienici, giochi per bambini, panchette, portarifiuti. I progetti si inseriscono come iniziative finalizzate ad accrescere il legame soprattutto tra i giovanissimi cittadini e il bene comunale, caratterizzato da un particolare valore storico e culturale, utilizzando l'istituzione comune in un quadro di nuove relazioni tra istituzioni ed educazione civica ambientale. Il Dipartimento Lavori Pubblici Urbanistica ha pubblicato l'avviso per la ricerca di sponsorizzazioni per gli interventi di riqualificazione della Villa. Il Comune intende ricercare mediante procedura di evidenzia pubblica soggetti privati, anche in forma associata o pubblici, che intendono proporsi come sponsor per la fornitura e la collocazione di arredi all'interno dei servizi igienici presenti nella Villa Elena, che aumentino il comfort, i livelli igienici e l'estetica. La fornitura e la collocazione di giochi per bambini, panchette, portarifiuti con caratteristiche dimensionali, artistiche, idonee alla finalità di cui sono destinate. Quale corrispettivo lo sponsor otterrà un ritorno d'immagine attraverso la posizione del nome o logo sull'attrezzatura fornita, la visibilità dell'iniziativa sul sito internet della città di Ricata, la posizione del marchio sul materiale informativo dell'evento e la comunicazione ai mezzi di informazione. Agli sponsor spettano i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. A conclusione della procedura prevista dall'avviso, l'amministrazione comunale di Ricata potrà concludere con i soggetti un contratto di sponsorizzazione. Sono ammesse sia sponsorizzazioni tecniche consistenti nella fornitura di beni e servizi che sponsorizzazioni di finanziamento, quindi la somma necessaria per la realizzazione dell'attività individuata dall'amministrazione. Tutti i soggetti interessati dovranno presentare un plico sigillato indirizzato al comune di Ricata, Dipartimento Lavori Pubblici via Gerretta. Le proposte di sponsorizzazioni tecniche e finanziarie dovranno pervenire entro le ore 12 del 28 settembre prossimo.